Tutta la casa Chateau D'Ax a meno di 10.000 euro. Aggiungi solo 100 euro per il materasso ortopedico. Aggiungi solo 140 euro per l'optional letto nel divano. Aggiungi solo 240 euro per tutti gli elettrodomestici. Ma sei già qui? Fai come Vincenzo, partecipa al concorso Chateau D'Ax, diventa testimonial per un mese e vinci fino a 5.000 euro. Ti aspetto in un negozio Chateau D'Ax e per rivedere tutte le offerte vai sul sito ChateauD'Ax.it. Forza, tocca a te adesso! Anche tu, vinci quello che acquisti, scegli Chateau D'Ax.